Prima fila con numero 1 Damaris Griff, Roberto Vecchione, col 2 Dick Dick Jet, Mauro Minnucci, col 3 Dioro Piro Amolossani, col 4 Divina di Casei Roberto Rubolo, col 5 Dama d'Amore S.M. Paolo Carta, col 6 Detroit Mail Davide Angeletti, col 7 Diana Siggi Francesco Tufano. Seconda fila, l'8 Diana Del Circeo, Roberto Muscolini, il 9 Diva Mail, Gabriele Quarnetti, il 10 Donna Summer Trebb, Lucio Becchetti. Rinuncia al lancio, parte arretrato Detroit Mail, cerca di cogliere partenza lanciata alla corda Damaris Griff. In 5 su di una linea, lo stacco della macchina, con Damaris Griff che rientra agli avversari, tra i quali il più veloce è Dioro P, che la incalza, ma a contatto c'è anche Dick Dick Jet. Lancio in 13,4 per Damaris Griff che difende la corda, desiste Dioro P, c'è l'errore di Dama d'Amore S.M. E allora si ritrova a seconda in corda Diana Del Circeo, che ha sfruttato l'ascia della leader, lascia a largo Dick Dick Jet che ha all'interno Diva Mail. Poi una pariglia composta da Divina di Casei e Dioro P, e quindi in coda Donna Summer Trebb, mentre hanno sbagliato Detroit Mail e Diana Sigi. Comanda Damaris Griff nei confronti di Diana Del Circeo, Diva Mail all'esterno di Dick Dick Jet, poi Divina di Casei e Dioro P. Damaris Griff che giunge al paletto metà gara in un minuto e un secondo, sposta Diva Mail dalla terza posizione, decisa, e va al lato di Diana Del Circeo per andare ad incalzare la battistrada. Damaris Griff che replica a Diva Mail chilometro in 1.16 scarso, con l'ultima frazione in 14.8 per Damaris Griff e Diva Mail davanti a Diana Del Circeo, poi Divina di Casei, Dick Dick Jet in terza ruota, cerca di progadire Donna Summer Trebb. Damaris Griff respinge Diva Mail che entrando in retta però non si dà per vinta, insiste all'attacco, a contatto c'è Diana Del Circeo, davanti a Divina di Casei che ora è libera dalla corda e sposta su Diana Del Circeo. Lottano sempre Damaris Griff alla corda e Diva Mail all'argo, poi Divina di Casei che sta rimontando Diana Del Circeo nel finale Damaris Griff che si svincola da un'ottima Diva Mail, vince Damaris Griff davanti a Diva Mail e Divina di Casei. 1-9-4 la rivufficioso della quarta di Capanelle, 2 minuti e 6 decimi sul mio cronometro, media di 1-15-3, 1-15-4 per Damaris Griff, la seconda a seguire sulla pista e regala il terzo successo della giornata a Roberto Vecchione e a Olga Erelert nelle vesti di allenatore, la figlia di Mac Grace SM con i colori del signor Antonio Favilla, comanda da un capo all'altro. Diva Mail all'attacco nei 700 finali ma viene respinta fin sul palo, 1-9 mentre per il terzo si libera dalla corda ed emerge con il 4 Divina di Casei, 1-9-4 la rivufficioso della quarta di Capanelle. Grazie a tutti. Grazie a tutti.